I carabinieri del gruppo Tutela Lavoro di Milano hanno arrestato un cittadino bengalese titolare di un'attività di Internet Point e commercio al dettaglio di apparecchiature telefoniche ritenuto responsabile di riciclaggio, continuato e di abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento. Le indagini avviate nel mese di febbraio 2021 del nucleo operativo del gruppo per la tutela del lavoro di Milano e coordinate della procura di Milano sono partite dal monitoraggio del fenomeno dell'indebita percezione del reddito di cittadinanza che hanno portato i carabinieri ad individuare numerosi cittadini di origine somala che percepivano il reddito di cittadinanza senza possederne i requisiti. Si è poi accertato attraverso una minuziosa analisi dei flussi finanziari che questi effettuavano anomali e ricorrenti acquisti con la carta del reddito di cittadinanza presso un esercizio commerciale di telefonia di Milano. Gli ulteriori approfondimenti investigativi effettuati a carico del gestore dell'esercizio commerciale hanno permesso di acclarare che l'esercente avrebbe consentito a partire dall'ottobre 2020 di monetizzare il beneficio economico del reddito di cittadinanza concesso a cittadini di origine prevalentemente somala privi dei requisiti. Gli versavano l'intero credito della carta mediante versamenti senza causa tramite POS. In cambio l'esercente consegnava loro somme in contanti trattenendo su ogni transazione eseguita una percentuale del 15%. In questo modo veniva nascosta la provenienza illecita del denaro rispetto all'anno precedente all'istituzione del reddito di cittadinanza l'attività economica in questione che non commercializza i beni di prima necessità per cui possono essere impiegate le somme concesse con il beneficio ha fatto registrare un incremento delle transazioni POS di 215.000 euro passando da un incasso su base mensile di euro 1460 a circa 23.450 euro, un più 1600%. 244 le persone che nel periodo di tempo interessato dalle indagini hanno effettuato acquisti con RDC presso il solo esercizio commerciale. 232 di queste, individuate quali debitori, percettori, sono state denunciate presso 7 procure della Repubblica per i reati di falsa attestazione del possesso dei requisiti per il pagamento del beneficio RDC e di truffa aggravata. Gli altri 12 in possesso dei requisiti sono stati segnalati all'Inps per l'indebito utilizzo del beneficio. Ammonta a circa 213.000 euro la somma di denaro riciclata dall'esercente, mentre l'indebita percezione in danno dello Stato da parte degli indagati è stata quantificata in 1.100.000 euro.